Siamo al Teatro Il Piccolo di Forigrotta per la presentazione del progetto di rifacimento del Viale Augusto, uno storico momento per Forigrotta e per tutto il quartiere. Siamo con il Presidente del Consiglio Comunale Enza Amato, con lei vogliamo fare un po' il punto della situazione, con Forigrotta che sta rinascendo pian piano, dottoressa. Si deve dire che rispetto al passato c'è un cambio di marcia importante, l'amministrazione sta dando una grande attenzione alle municipalità tutte, quindi si lavora in stretta sinergia con le presidenze, con i consigli municipali e si cerca di venire rispetto a quelle che sono le grandi difficoltà ma anche le grandi potenzialità di questi territori, territori a delle scelte che possono essere intanto di interesse e di impatto per la vita dei cittadini. Nel caso specifico di questo progetto, sappiamo tutti che è un progetto molto atteso, Viale Augusto è un'arteria principale del territorio a dovest di Napoli, trascurato per troppo tempo, fondi che erano stati rintracciati e poi persi nel passato, non utilizzati. Finalmente con l'amministrazione Manfredi e sotto la guida dell'assessore Edoardo Cosenza si arriva ad appaltare l'opera, ad avere un'azienda esecutrice, quindi un esecutore dei lavori, tempi indicati, finanziamento stanziato, 2 miliardi e 6 per la riqualificazione del Viale Augusto, 300 giorni di progetto, l'assessore ci spiegherà appunto nel dettaglio le caratteristiche dello stesso, anche del cantiere, di quello che verrà ad impattare per questi 300 giorni sul territorio della decima municipalità. Abbiamo voluto con lui presentare stasera l'iniziativa perché fosse conosciuta per tempo e fosse condivisa con gli operatori economici, con gli stakeholder del territorio e perché fosse accompagnata da una corretta informazione. Ci auguriamo che questo insieme ad altre progettualità che l'amministrazione pian piano sta mettendo in campo possa rilanciare la straordinaria bellezza e la potenzialità della nostra città. Sicuramente Fuorigrotta è un quartiere abbastanza importante, adesso si parla anche di nuovi parcheggi, di sviluppo intorno allo stadio, dell'area della Mostra Oltremare, insomma come ci diceva lei è soltanto l'inizio di un processo progressivo che porterà questo quartiere a risplendere pienamente. Assolutamente sì, Fuorigrotta è uno dei quartieri che ha i principali asset di intrattenimento sia turistico, culturale, fieristico, oltre che lo stadio Maradona, quindi siamo assolutamente attenti in questo momento in particolare alle grandi gesta che il nostro Napoli sta facendo e quindi è evidente la grande affluenza che soprattutto nei momenti di incontro del campionato ha questo territorio e la possibilità di avere una capienza di parcheggio, una disponibilità di parcheggi che sia all'altezza del flusso in ingresso è fondamentale. Non dimentichiamo che al di là dell'evento sportivo noi ospitiamo la più grande università a Monte Sant'Angelo e quindi c'è un flusso enorme di giovani che tutte le mattine vengono per studio in questo territorio, oltre che i lavoratori, quelli che normalmente vengono a lavorare nell'area ovest di Napoli. Per cui insieme alla riqualificazione di Via Lagrusto anche un piano di gestione dell'accoglienza della mobilità è chiaramente l'attenzione fondamentale al rilancio pieno del trasporto pubblico locale. Siamo col Presidente della Decima Municipalità, Carmine San Giovanni, anche lui questa sera giustamente ad illustrare alla cittadinanza e alla sua municipalità questo importante progetto di rifacimento di Via Lagrusto, questo importante progetto che finalmente va a creare una realtà che speriamo possa essere sempre migliore per il quartiere. Lo avete sognato per molto tempo, lo avete inseguito per molto tempo, adesso è una realtà, no? Assolutamente, stasera è un momento importante anche perché insieme all'assessore noi riusciamo a dare uno start a quello che è una grande progettualità del nostro territorio, della nostra municipalità, quindi il progetto di Via Lagrusto è quello che poi rifà sognare i cittadini delle municipalità perché si entra nel merito del cambiamento della città. Via Lagrusto, che storicamente è una delle arterie più importanti della municipalità di Fuoricrotto, ma io probabilmente penso proprio della città di Napoli, con questo progetto di rilancio ritornerà ai suoi vecchi fasti urbanistici, strutturali e storici che merita. Quindi saranno rifatti strade, marciapiedi, ripiantumazioni di essenze arboree, di alto e basso fusto, poi l'assessore entra nel merito specifico con il suo intervento che sarà molto più approfondito, però io ci tengo a precisare che non tutto ci deve essere dato dall'amministrazione centrale che già sta facendo un grande sforzo. La municipalità si impegna altresì insieme a questo processo straordinario di rilancio di Via Lagrusto di mettere in campo le risorse necessarie insieme agli uffici centrali per rifunzionalizzare le piazze circostanti che stanno su Via Lagrusto. Piazza Italia, che nei prossimi mesi vedrà il suo rilancio, Piazza Veniro, lo stesso Largolala, Piazza Letecchio, la stessa Piazza San Vitale. Ecco, questi sono interventi che insieme al grande intervento daranno la compiutezza insieme a una modifica della viabilità che rispetto al cantiere deve essere ripensata e ridisegnata. Ecco, su tutti questi aspetti noi lavoreremo per dare il giusto completamente ad un'opera che è fondamentale per il quartiere. E soprattutto intorno allo stadio anche un po' più di ordine, dato che adesso 50-60 mila persone ogni 15 giorni, ogni 10 giorni affollano quell'area che sicuramente risulta ancora essere abbastanza disordinata. State facendo tanto con la rimozione delle auto e di quant'altro, ma ancora tanto c'è da fare anche in termini proprio di rifiuti e quant'altro, no? Sì, ebbè, noi viviamo fortunatamente l'esistenza dello stadio che storicamente rappresenta quello che è l'essenza della vicinanza della nostra squadra del cuore e dello sport della città di Napoli e diciamo non immaginerei un'ulteriore allocazione di una struttura sportiva che possa vedere le partite del Napoli. Quindi diciamo che è vero che comporta anche tutta una serie di disagi per i residenti e per i cittadini di fuori grotta, ma dobbiamo altresi dire che porta indotto economia, vitalità a tutte le attività commerciali che aspettano con ansia queste partite. Anzi, più il Napoli va bene e più ha impegni nazionali e internazionali e più il commercio si rivitalizza e si rilancia. È evidente che noi viviamo anche le fasi post partita dove c'è un degrado il giorno successivo alla partita che però Asia anche con fatica riesce a risolvere. Siamo con l'assessore Edoardo Cosenza, questa sera a illustrare il progetto di rifacimento del Bialagusto, importante arteria non solo del quartiere di Fuorirotta ma di tutta Napoli. Assessore, ci vuole illustrare che cosa succederà questa sera e che cosa succederà soprattutto nei prossimi 300 giorni. Sì, se ne è parlato per decenni di questo rifacimento, finalmente partono i lavori, c'è stata anche una lunghissima discussione con la sovrintendenza per gli alberi, per l'essenza e arbore, perché poi ripiantare le stesse palme che erano state soggette all'attacco del punteruro rosso sarebbe stato non appropriato. Abbiamo trovato una soluzione, quindi ci sarà tutto il rifacimento stradale, il rifacimento dei marciapiedi, un restyling completo, rialberiamo tutto, quindi diciamo da molte aree è sterrato, è bruttissimo, ritornerà quel viale con una doppia fila di alberi che guarda verso la mossa d'Oltremare che poi era l'idea iniziale. Aggiungo che il primo dei lavori che facciamo a Fuorirotta, perché ne seguiranno davvero tanti, abbiamo finanziato il rifacimento di via Cinzia, di via Beccadelli, ci saranno lavori della metropolitana molto rilevanti, una sorpresa sarà che da Piazza Leopardi il ponte che c'è, in cui si scende giù al binario arriverà via Campegna, questo è un progetto che presenteremo nelle prossime settimane, ma così via Campegna che è sempre stata sfavorita dalla presenza dei binari, perché il fascio dei binari è un taglio rispetto a tutto quel grande quartiere, sarà direttamente collegato, quindi ci sono moltissimi lavori su Fuorirotta, però noi poi vogliamo, nello stile del sindaco Manfredi, vogliamo parlare quando sono per partire le cose, non fare annunci inutili, c'è un'impresa, c'è un cronoprogramma, c'è un progetto approvato anche dalla sovrintendenza, finalmente si parte. Assessore, volevamo chiederle dello stadio San Paolo, adesso di nuovo affollatissimo e con problemi sicuramente di viabilità state studiando qualche nuova formula per rendere più funzionale la zona che sicuramente subisce dei grandi sacrifici durante gli avvenimenti sportivi e in particolare anche le partite di calcio, no? Sì, io sono un tifoso di Curva B anche ieri c'ero, quindi lo capisco benissimo. Allora, il restyling di un'opera vingolata come quella non è facilissimo, per quanto riguarda i parcheggi, noi ripartiamo con la stagione dei parcheggi a Napoli, quindi ho già fatto deliberare in giunta o portare in giunta l'anenemità, si riparla di parcheggi privati in questo caso, uno anche qui nella zona di Floricotto è molto significativo, l'ex Mercadino Cerlone. Esatto, qui sarà un parcheggio multipiano di oltre 250 posti, poi c'è anche Piazza Vittoria, c'è anche un alvomero, quindi è anche un po' come dire, un test politico, per me ci vogliono i parcheggi perché poi non è che si può, diciamo è giusto non far parcheggiare in seconda vina, però chi va allo stadio, cosa deve fare, o chi va sul lungomare, cosa deve fare, quindi diciamo questo integralismo contro i parcheggi non è sicuramente mio, però poi chiaramente accompagnato da mobilità sostenibile, quindi come dicevo sviluppo della metropolitana, le ciclabili, cioè diciamo dobbiamo contemperare tutte le esigenze, ma il no ai parcheggi pure è un errore. Poi cosa rifare sullo stadio, bisogna discutere neanche col Presidente De Laurenti, se ricordo che lo stadio è visto come una risorsa molto importante, la delega sarebbe mantenuta il Sindaco, quindi è il Sindaco in persona che decide le questioni relative allo stadio, io chiamo ancora San Paolo, ma insomma lo stadio Maradona. Continua il giro di interviste questa sera qui a Piazzale Tecchio, in occasione della presentazione del rifacimento del Bialagusto, siamo con l'assessore De Jesu, tappa importante per Napoli anche questa, no? Sicuramente è una tappa importante, questa amministrazione sta cercando con piccoli passi, piccole cose concrete e questa sicuramente è una cosa concreta, Viale Gusto è uno dei viali più rappresentativi della nostra città e meritava un progetto così performante sul territorio, anche alla rigenerazione del verde, delle palme, sicuramente il Viale Augusto che è la prosecuzione della nostra oltremare rappresenterà un sito importante da rigenerare, ma tante altre iniziative noi stiamo portando avanti per la vila comunale, per Posillipo, la rigenerazione di queste aree e stiamo recuperando pezzi, non è un compito facile, noi dobbiamo fare i conti con le risorse, ma con grandi sforzi stiamo cercando di dare attenzione al verde e alla rigenerazione di alcuni siti, sicuramente la manutenzione stradale è uno dei problemi che la gente sente di più sulle cose, però rigenerare migliaia di chilometri di strade a Napoli non è cosa facile, ci vogliono le risorse e questa amministrazione è impegnata nel cercare di recuperare le entrate per poter fare le cose che la gente si aspetta. A proposito di viabilità, Stadio San Paolo nuovamente affollatissimo, viabilità intorno allo stadio, problematiche del quartiere fuori grotta che vanno al di là del rifacimento di Viale Augusto? Il problema è che uno stadio è collocato all'interno di un tessuto urbano fortemente conurbato, assenza di parcheggi e questo è un dato inevitabile, purtroppo la collocazione dello stadio non è felice, non è ideale, un tempo lo era perché fuori grotta non era fortemente conurbata, oggi c'è un tema di uno stadio che porta quasi settimanalmente migliaia di tifosi con un sistema di parcheggi che è sicuramente inadeguato, non è facile risolvere questo problema, ci auguriamo che un giorno potremo avere uno stadio collocato in un'area che possa soddisfare, ci sono le cittime esigenze di un tifoso che vuole venire allo stadio deve poter parcheggiare in maniera adeguata senza avere l'incubo del parcheggio o l'incubo del prelievo dei carri gru. Bene, allora con l'assessore De Jesu concludiamo questa simpatica serata, uno sviluppo di fuori lotta e naturalmente rifacimento del Viale Augusto. Alla prossima!